In Abruzzo la vertenza Mercatone 1 sta interessando oltre 100 dipendenti che operano nei tre punti vendita, quello di Scerni di Pineto, Coronnello e Sambuceto. Si tratta di una vertenza delicata che interessa molte regioni, sulla quale il ministro Di Maio dopo l'incontro di ieri a Roma ha deciso di avviare immediatamente un tavolo nazionale, anticipando la riunione che in un primo momento era fissata per il 30 maggio. In questa difficile vertenza, venuta a galla due giorni fa con il fallimento della Scernon Holding, società che detiene il marchio e gestisce 55 negozi solo dall'agosto del 2018, il ministro Di Maio ha annunciato che l'obiettivo primario è quello di attivare al più presto la CIGS, un modo per garantire il sostegno al reddito dei 1.800 dipendenti totali di Mercatone 1, per valutare bene i debiti del gruppo e infine cercare un nuovo acquirente. Il ministro Di Maio ha preso un impegno importantissimo, forse è una delle poche volte che un ministro direttamente prende un impegno così importante. Primo punto, l'impegno di portare al Ministero del Lavoro un'eventuale cassa integrazione straordinaria per questi lavoratori, nel frattempo che i commissari straordinari che hanno gestito fino al mese di luglio 2018 riprendono in mano la situazione. Noi abbiamo fatto anche altre richieste, perché non dimentichiamo che nel 2018 i lavoratori, una parte sono rimasti fuori proprio, sono in disoccupazione, in aspi, e una parte hanno rinunciato al 50% del salario, riducendosi i propri contratti. Noi abbiamo chiesto che siccome è stato un blef questa Shernon, perché è tale stato, di riportare i contratti originali a tutti quanti e anche di rintegrare i vecchi lavoratori che erano fuorisciti, di metterli nella cassa integrazione straordinaria e dopo eventualmente attendere qualche compratore e si inizi a trattare con questi nuovi compratori. Loro dicono che c'è una cordata di quattro imprenditori più alcuni fornitori che si sono fatti avanti, però per il momento sono solo parole. Adesso a noi quello che ci interessava e che ci interessa è che questi lavoratori non rimangano senza salario in mezzo alla strada.